Benvenuti su YouTube da Gold Unicorn Artaroth. Oggi il titolo del video di Tarochi sull'amore è che cosa sta accadendo nel suo cuore ora, proprio adesso, proprio in questo momento. Quindi andremo a vedere naturalmente come si sente, se gli mancate e se vuole venire da voi. Quindi vi ricordo sempre di guardare questo video per manifestare ciò che vi risuona e per la migliore vibrazione per voi. Allora, oggi le stese sono la numero 4 della materia e la numero 8 dell'infinito. Mentre scegliete, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. E toccate la campanella scura. E la mia mail la trovate sotto in descrizione. Quindi andiamo ad incominciare con la stesa numero 1, che la metto qui e togliamo la 2. Allora, per chi ha scelto la stesa numero 1, andiamo subito a vedere come si sente, visto che la domanda è cosa sta accadendo nel suo cuore, andremo subito a vedere come si sente la persona a cui state pensando. Come si sente importante, perché come si sente poi agirà anche di conseguenza. Dunque, qui abbiamo una persona molto sul controllo, come dicono proprio le carte di Osho, che vuole rallentare o che ha bisogno di rallentare in questo momento. O forse vuole controllare qualcosa, per cui decide di rallentare qualcosa. Quindi è un momento probabilmente di molto stress per questa persona, tant'è vero che si sente un po' imprigionata. E pensa giustamente che seguendo queste istintualità che gli vengono, cioè rallentare il controllare un po' l'emozione, lui riuscirà quindi a sentirsi rilassato e a seguire il flusso della vita. Questo è molto bene, perché così, se deve fare qualcosa verso qualcuno, è una persona, diciamo, più adatta in questo momento, no? Quindi andiamo a metterci ancora un po' di carte su questo come si sente, perché così poi andiamo a vedere che cosa vuole fare anche in generale, no? Perché sente questo, quindi che cosa vuole fare questa persona? In generale nella vita vuole una relazione, vuole pensare solo al lavoro, vuole starse ne solo. Quindi andiamo sempre nel sentire, ma qui siamo già sul cosa vuole veramente fare questa persona. Beh, qui abbiamo una persona che ha bisogno di rallentare, perché ha bisogno anche di distrazione, ha bisogno di compagnia, ha bisogno di stare bene, ha bisogno anche di amare, perché qui abbiamo comunque una persona che si sta divertendo insieme a una famiglia o a degli amici cari, no? Quindi potreste esserci anche voi dentro questa situazione, no? E' naturalmente una metafora che rappresenta la sua voglia di stare bene rispetto all'imprigionamento che ha questa persona, no? Ed ecco che infatti pensa proprio anche a voi. Quindi è come se questa persona fosse bloccata dallo stress, dai suoi problemi, ma senta dentro se stesso il desiderio di ritrovare la sua vita, di seguire il flusso, di ritrovare la sua armonia e in questa armonia anche proprio voi. Qui forse qualcuno di voi li ha scritto, forse la persona a cui state pensando vi ha scritto in passato. Ecco, qui ci sono dei messaggi che intercorrono fra di voi, ecco, che sono intercorsi fra di voi. Vediamo un po' la natura di questi messaggi. Beh, comunque questi messaggi, qualsiasi essi siano stati in passato, oggi come oggi, questa persona vuole che le comunicazioni con voi diventino armoniose, no? Preoccuperò questo desiderio di seguire il flusso della vita, di divertirsi, dove voi siete comprese, diciamo, in questo voler stare meglio anche con voi. E lui pensa che facendo questo che abbiamo detto all'inizio, cioè cercare di controllare le emozioni, magari anche le emozioni negative, lui si sentirà anche più predisposto verso di voi, no? Quindi che cosa vuole fare questa persona? Vuole stare meglio e vuole stare meglio anche con voi. Voi siete assolutamente contemplate, anzi, pensa che avete avuto, molti di voi naturalmente, su un video di generali hanno avuto, sì, delle comunicazioni, ma pensa che ora queste comunicazioni verso di voi devono diventare veramente amorevoli, quindi con la connotazione dell'amore, no? Qui abbiamo proprio la principessa di coppe, quindi vuole che siano di nuovo, vuole rivalutarvi questa persona, no? Non che in questo momento non lo faccia, ma è come se in questo momento non riuscissi a farlo per le troppe incombenze che ha questa persona qui, eh? Quindi voi siete assolutamente contemplate, tant'è vero che voglio vedere a questo punto qualcosa in più verso di voi, no? Voi siete assolutamente contemplate in questo suo desiderio, ecco, quindi è una persona appunto che non sta bene, ma che vuole stare assolutamente bene e soprattutto vuole in qualche modo ricongiungersi a voi se siete separati o congiungersi a voi se non avete mai magari avuto una relazione, per ognuno è diverso, dovete un po' adattare l'energia, la vibrazione di questo video alla vostra situazione. Allora, andiamo a vedere di più, se magari ne mancate, che cosa prova per voi. Cosa prova veramente per voi, visto che siete uscite, voglio mettere proprio qui sopra. Molti hanno avuto una rottura, eh? Proprio per questo che in qualche modo si vuole porre rimedio, diciamo, no? Questa stesura sta dicendo che la persona ha nel cuore proprio voi, e quindi ritorna, ritorna, ritornate voi, quindi la regina di Coppa, la regina del suo cuore, no? Quindi vuole porre rimedio. Vi ha proprio rivalutata, eh, questa persona. Probabilmente grazie a questo suo periodo di stress, dove voglio mettere adesso anche qui una carta qua, grazie a questo suo periodo di stress, questa persona ha perso molto a livello amoroso, no? Si è comportata probabilmente come neanche pensava che avrebbe fatto. Ecco, quindi una persona che si è resa conto che non ha fatto le cose giuste, mentre forse perché doveva assolutamente occuparsi anche di cose pratiche, mentre adesso invece questa persona ha proprio un istinto verso di voi, un istinto di venire verso di voi in modo amorevole, eh? Quindi qui abbiamo una persona che ha avuto diversi ostacoli, ma non vi ha dimenticata fondamentalmente questa persona, eh? O comunque che voi abbiate avuto già una storia con questa persona o meno, non vi ha dimenticata questa persona assolutamente, anche nel periodo difficile, semplicemente doveva risolvere delle cose importanti e soprattutto anche il suo stato d'animo. Guardate che voglia di gioire, no? Che ha voglia proprio di festeggiare, di gioire, come dicevano anche appunto queste carte. Quindi qui abbiamo una persona che ha voglia proprio di festeggiare anche qualcosa, forse festeggiare anche un ritorno, no? Quindi vediamo un attimo come vi vede in questo momento, oltre che la regina del suo cuore. Sì, vuole creare proprio un'alleanza con voi, quindi vuole proprio ricrearsi, ricreare un nuovo mondo, no? Come dicono anche queste carte, no? Che poi sono tutte collegate naturalmente, quindi vuole creare una nuova, mi viene da dire, comunione con voi, una nuova alleanza, qualcosa di profondo, eh? Niente di, diciamo, di amicale, ma più di amoroso, è proprio rispetto a delle difficoltà. Voglio mettere ancora... Sì, su queste difficoltà, sì, ci sono state delle cose non belle, oppure non come voi le volevate, però adesso, secondo me, è il momento di chiarire quello che non c'è stato o che ci doveva essere, ecco, però è chiarire ma verso il futuro. Quindi qui abbiamo una persona che è proiettata verso il futuro, no? Che sì, vuole chiarire, ma anche non star troppo su... Ha troppa voglia di festeggiare questa persona, non vuole star troppo nei ripensamenti, eh? Quindi voglio vedere un po' ancora... Con queste, quanto voi mancate a questa persona? O quanto gli siete mancati? Proprio cosa c'è veramente nel suo cuore, no? Senz'altro così non ci vuole stare, ecco, quindi anzi proprio grazie a questo periodo di stress che ha avuto, che adesso ha maggior spinta a venire verso di voi. Forse se non avesse avuto questo periodo così difficoltoso, pesante, a cui ha dovuto porre rimedio, forse non ci sarebbe stato un vero cambiamento anche verso di voi. È come se questo lungo periodo difficile gli avesse fatto proprio voglia... Gli avesse fatto venire proprio voglia di vivere, no? Voglia di vivere la vita, voglia di vivere la vita e dare attenzione a ciò che deve avere attenzione, non alle piccole cose, ma alle grandi cose importanti, come voi che qui siete venuti addirittura due volte, no? Quindi sa che voi siete delle persone comunque anche pratiche che sapete vivere, diciamo, anche a livello materiale la vita, non solo a livello sentimentale, ma come materiale si intende anche se dobbiamo andare da qualche parte possiamo permettercelo, ecco, possiamo permettercelo perché siamo due persone che comunque lavorano, che hanno una loro indipendenza anche economica, no? Quindi questo cambiamento e anche il fatto che si riferisca molto a voi è che non solo vi vede come una persona da amare, ma vi vede anche come una persona con cui poter stare insieme, perché avete anche un certo grado di praticità, no? E magari amate anche le stesse cose. Quindi andiamo proprio a vedere che cosa farà a questo punto. Ops! Che cosa farà a questo punto questa persona? Visto che abbiamo ben indagato nel suo cuore. Beh, questa persona da dentro sente sorgere da dentro se stessa, quindi dalle profondità, diciamo, anche del suo inconscio, del suo profondo inconscio, sente sorgere un malessere che vuole che si trasformi in benessere, vuole proprio, come dice questa carta, un bellissimo due di coppe, vuole proprio, qui avevamo anche l'alleanza, vuole proprio un'unione con voi. Quindi questa persona vuole una riunione oppure unione per la prima volta, dipende da voi, com'è il vostro stato di vita, diciamo, con la persona a cui state pensando. Quindi qui abbiamo una persona che viene senz'altro per proporre, che viene, che sta pensando per adesso, che vuole proprio un'unione con voi. Vediamo proprio delle azioni, se fa proprio delle azioni questa persona. Beh, certo, questa è una carta anche di movimento, oltre a essere una carta meravigliosa, bellissima, ha un'energia stupenda. Quindi qui abbiamo proprio una persona che lo pensa, ma poi lo fa. Quindi non è una persona, naturalmente deve chiudere questi cicli pesanti, perché questa è molto una proiezione verso il futuro, no? Noi stiamo guardando cosa sta accadendo nel suo cuore. Ecco, quello che sta accadendo è tutto questo. Quindi le sue intenzioni sono appena sto meglio, vengo verso di te. E quindi il tempo, siamo sempre negli interattivi, quindi consulti generali, quindi per ognuno di voi sarà un tempo diverso. Diciamo che ognuno di voi avrà il suo tempo sacro per ritrovarsi o trovarsi per la prima volta con questa persona. Quindi io direi che l'inizio, questo è un grande inizio, c'è già, quindi i semi sono già stati, tutto nell'invisibile, si sta per manifestare, qui i tempi sono piuttosto veloci. Bene, vi ringrazio a tutti dell'ascolto e passo alla stesa numero due. Eccoci alla stesa numero due perché ha scelto il numero otto, quindi andiamo anche per voi a vedere che cosa sta accadendo nel suo cuore ora, quindi come si sente, che cosa vuole fare in generale, che cosa prova per voi, se gli mancate, se viene da voi. quindi andiamo ad incominciare con come si sente questa persona, che è molto importante perché meglio ci si sente, più si fanno cose belle, armoniose. qui abbiamo una persona che ha meditato a lungo sul proprio coraggio, quindi molto probabilmente la persona a cui state pensando è una persona a cui secondo voi, anche secondo la vostra visione, gli mancava il coraggio di fare qualcosa, di fare delle azioni, però questa persona ha studiato come tirar fuori la forza e il coraggio da se stessa, quindi diciamo che in questo periodo come sta questa persona? Una persona che sta cercando la sua forza interiore, aveva degli stereotipi, dei condizionamenti da dover lasciare e infatti si vede che ora è molto ricettivo un po' a tutto, un po' al nuovo, quindi andiamo un po' a vedere un po' a livello pratico poi, cosa farà questa persona, cosa vuole fare in generale, visto che abbiamo una persona che ha trovato il coraggio di fare qualcosa, andiamo a vedere perché aveva bisogno di questo coraggio, voglio vedere perché aveva bisogno di tirar fuori il coraggio questa persona, per fare cosa, no? Abbiamo una persona che ha trovato il coraggio di fare qualcosa che ha a che fare con l'amore e con la famiglia, quindi come se questa persona non avesse avuto il coraggio, potrebbe essere anche una cosa di lavoro, invece viene proprio l'amore, no? Quindi qui abbiamo una persona che non aveva il coraggio forse di ufficializzare una relazione, forse di viversi l'amore lasciandosi andare completamente, no? Quindi una persona che vuole lasciare andare i condizionamenti evidentemente aveva qualche paura che riguarda proprio il suo mettersi in relazione, il suo creare una famiglia, no? Gli mancava un po' a questa persona la parte giocosa, no? Cioè mettersi insieme una persona felicemente senza star troppo a farsi dei problemi, ecco, poi vivendo si vedrà. Quindi qui abbiamo una persona che ha lavorato bene, probabilmente ha acquisito delle nuove conoscenze sia attraverso una persona, attraverso dei libri, gli è scattato qualcosa a questa persona, perciò questa persona che, come diceva la prima carta, cercava il coraggio di fare qualcosa, ha trovato il coraggio dentro se stessa. Andiamo avanti. Sì, si sente molto una persona nuova, rinnovata, in questo momento questa persona, anzi, rivede un po' la sua vita come ha preso in modo cupo certi atteggiamenti, come era più rigida questa persona, quindi una persona che sta riflettendo sul suo passato carattere anche, sulle sue reazioni, no? Anzi, qui abbiamo una persona che non vede l'ora di mettersi alla prova dopo che ha ritrovato in se stessa questa nuova forza, diciamo, no? Quindi, cosa vuole la famiglia? Allora, andiamo a vedere ancora se voi uscite per capire se adesso queste sono ancora le riflessioni sul passato, voi potreste essere anche comunque una persona che si è avuto a che fare con lui perché qualcuno di voi può anche pensare a una persona nuova con cui non ha avuto a che fare quindi qui se voi avete avuto a che fare c'è stato qualcosa sulla quale lui si si prende un po' delle responsabilità capisce che forse avete avuto delle forti arrabbiature eccovi quindi a questo punto questa persona si rende conto che forse anche voi non vi siete comportati in modo eccelso perché comunque in qualche modo vi ha provocato mentre lui proprio voi sulla famiglia sulla voglia di gioire siete venute qua quindi quindi si può dire che questa persona proprio vuole cosa vuole fare in generale si vuole fare una famiglia ma siete venuti voi quindi voi siete il punto di riferimento per questa famiglia che lui sta progettando una persona che adesso ha trovato il coraggio dentro se stessa andiamo un po' a vedere di più sì tanto pensa che voi siete comunque sempre state o siete in generale una persona più gioiosa di lui o di lei cioè qui abbiamo una persona che riflette tanto come lo vediamo qui anche riflette tanto su come alle volte vi può avere reso cupa cupe le vostre giornate come quante volte avete avuto dei conflitti ora è come se dicesse questi conflitti sono stati inutili quindi che senso ha continuare su queste strade ci vogliono come dice anche questa carta delle strade nuove ci vuole un grande rinnovamento perché adesso io mi rendo conto che prima non avevo questi bei pensieri riguardo alla famiglia non avevo appunto il coraggio di fare delle azioni perché vedevo sempre un po' tutto più negativo invece adesso sento proprio che effettivamente ho superato i miei problemi i miei conflitti secondo me se voi conoscevate già e avete avuto una relazione con questa persona questa persona ha capito che le vostre richieste erano giuste più che altro perché erano anche le sue quindi avete avuto forse questa persona non vi dava soddisfazione perché appunto non aveva la forza il coraggio non riusciva a vedere il bello in una relazione in una famiglia mentre adesso sì quindi secondo me voi a questa persona siete mancati fondamentalmente quindi voglio vedere sì è una persona che prima vedeva l'amore un po' come un'illusione cioè secondo lui o lei insomma secondo di chi state pensando l'idea di questa persona era che la relazione non poteva essere felice non poteva essere serena erano un po' tutte illusioni probabilmente questa persona ha avuto proprio una trasformazione di cuore nel suo cuore visto che sì è come se questa persona rimasta sola con se stessa e con il suo dolore perché qui abbiamo comunque una persona che ha sofferto per mancanza in questo caso d'amore ma l'amore che sorge dal suo cuore quindi la sofferenza era dovuta all'assenza dell'amore ecco perché creava conflitti perché in fondo questa persona non aveva un vero amore dentro non riusciva a provarlo e anzi ha preso coscienza che non riuscire a provare amore gli creava una grande tristezza un gran conflitto e pensava anche che l'amore fosse un po' tutto un'illusione quindi questa persona molto pratica poi alla fine piuttosto anche probabilmente pragmatica pensava molto alla sua vita alle sue cose ma non provava delle grandi emozioni qui invece abbiamo una persona proprio che improvvisamente ha aperto il cuore grazie però a un lavoro che ha fatto su se stesso vai a sapere dove ma gli doveva arrivare a livello animico secondo me qualcosa che gli ha fatto prendere coscienza che era a lui o a lei che mancava qualcosa quindi questa persona adesso vuole costruire cioè quello che non voleva fare prima invece vuole fare adesso quindi è stato un moto davvero di presa di coscienza di consapevolezza quindi qui abbiamo appunto una persona che vuole proprio con voi con voi che vi vede come persone gioiose anzi prima secondo me da come vedo un po' tutte le carte quasi quasi il vostro entusiasmo la vostra gioia gli poteva anche dar fastidio una persona comunque che vive dei conflitti mentre adesso questa persona non sente più questo moto di conflitto interiore perché ha imparato a provare diciamo delle emozioni quindi a questo punto io voglio proprio vedere che cosa prova a questo punto visto che voi siete la persona a cui fa riferimento ma che cosa c'è veramente nel suo cuore adesso per voi adesso che ha incominciato a capire che l'amore è un'altra cosa rispetto a quella che viveva prima quindi qui abbiamo una persona che ha voglia di amare ha voglia di mettersi alla prova intanto la cosa che vuole di più questa persona è proprio comunque anche la relazione perché ha capito che stando in relazione si sente più forte non più debole come pensava prima ma come sappiamo e come abbiamo detto prima questa persona non aveva diciamo del sentimento quindi questa persona per voi adesso sente che che vuole venire proprio qui abbiamo la carta del movimento vuole proprio venire verso di voi vuole proprio dell'amore da voi ha capito che voi siete la persona giusta quindi vuole venire da te si vuole venire da te questa persona voglio un attimo prendere queste carte che mi danno anche un po' più di energia di vibrazione l'adattabilità cosa che non aveva prima adesso questa è una persona molto più adattabile molto più morbida ecco quindi ha fatto una vera e proprio trasformazione questa persona e da come dice anche questa carta questa persona vuole proprio venire da voi e mostrarvi questo cambiamento vuole proprio venire da voi questa persona un pochino di paure le ha ancora non è che tutto quello che abbiamo detto all'inizio tutte le sue paure siano scomparse anche perché è completamente nuova questa persona nuova a se stessa quindi un pochino di paure ci saranno e un po' di dubbi ci saranno ancora quindi queste sono più le sue idee le sue consapevolezze poi piano piano secondo me questa persona verrà a voi cioè magari ci viene anche adesso facendo un movimento facendosi sentire in qualche modo qualcosa farà però non mostrerà subito la voglia di stare con voi perché andrà piano piano avrà paura magari delle vostre reazioni quindi è ancora un po' timida come persona una persona non dimentichiamoci che ha sofferto moltissimo quindi qui abbiamo quindi una persona che ha piuttosto le idee chiare perché ha avuto una vera e propria trasformazione però secondo me non vi mostrerà subito tutto ciò che vuole cioè la famiglia tutto quello che hanno detto qui cioè qui abbiamo ancora tre passi indietro due avanti ecco diciamo uno indietro uno avanti quindi abbiamo ancora delle titubanze però venire sicuro viene quindi cercate di leggere fra le righe e io vi ringrazio anche a voi dell'ascolto e a risentirci a presto grazie a tutti grazie a tutti